Ciao, ci rivediamo qui. Quanto sei emozionata? Sono più felice che emozionata, sì, io ho già vinto. Adesso quindi ti aspetti di vincere oppure questo già basta? No, sinceramente non mi aspetto di vincere, insomma è una serata, per me è già fantastico così, sono in mezzo a attori e attrici che stimo da tanto, quindi ho già vinto. Senti, sei bellissima, che cosa indossi? Ferragamo. E Gioielli? Gioielli, Braille Milano. Stupenda, in bocca al lupo. Ciao, ciao. Fabrino? Oddio! Mi sono morti, le scena ci sono esportate. Sì, sì. Ma è un'esporti? La rientra è farvelo sapere, non sto qui volentieri. La fine, se non è qua. non me l'aspettavo quest'anno è la seconda candidatura perché sono già stata candidata l'anno scorso non vincerò neanche quest'anno però sono felicissima perché mi sono potuta mettere questo fantastico vestito se no quando me lo mettevo e così insomma sono contenta Sabrina è un vestito stupendo grazie ho sentito dire che è un omaggio a qualcuno in un certo senso sì è un omaggio a Tim Burton che è uno dei miei registi preferiti e siccome secondo me c'è bisogno di un po' di fantasia nel nostro cinema invece delle strade già familiari potremmo percorrere altre più audaci grazie ciao ciao